La mia prima domanda è, esattamente come è nato Twimble? Allora, come è nato? È nato come, diciamo, modo di risolvere dei problemi che io avevo in effetti come persona, cioè da utilizzatore di Twitter, pesante utilizzatore di Twitter. Io mi sono iscritto a Twitter nel febbraio 2007, quindi mi sembra che sono utente numero 700 mila o qualcosa del genere, ora ce ne sono quasi 300 milioni, quindi mi sono iscritto abbastanza presto e mi sono ritrovato ad essere un pesante utilizzatore di tutti gli strumenti che poi a tutti gli effetti ti permettono di usare Twitter al meglio. Come dicevo prima, dal 2007 stavamo anche sperimentando un po' di servizi intorno a Twitter, servizi di ricerca, servizi un po' di ranking, quello che fa adesso Cloud come servizio di scoring, lo facevamo anche noi tempo fa. A quel punto lì però mi sono ritrovato a usare tanti servizi che però ciascuno dei quali non aveva quello che aveva l'altro, quindi insomma c'era un po' di… mi ritrovavo a spostarmi troppo rapidamente tra un servizio e l'altro. Cosa ci siamo detti? Perché non ce lo facciamo noi? Abbiamo l'esperienza, da utilizzatore Twitter sicuramente conosco bene lo strumento e allora ho coinvolto una persona, un sviluppatore qui in azienda che ha sempre lavorato su questi progetti un po' estremi, un po' di frontiera e ci siamo messi e l'abbiamo sviluppato. Quindi abbiamo lanciato come alfa chiusa nel 2010 a giugno, mi sembra la prima release sia stata a giugno e da lì ci siamo presi un bel po' di tempo per, come posso dirti, per ascoltare gli utenti. Quindi un anno e più, un anno e 13 mesi esattamente, prima della release pubblica, in cui abbiamo preso feedback. Abbiamo aperto sempre più al pubblico tramite inviti, quindi un modello a inviti, member get member, quindi persone che cominciavano a darci feedback interessanti, a cui andavamo a chiedere di invitare altre persone, in modo tale che poi avessimo sempre persone di valore che stessero utilizzando Twitter, quindi persone che potessero veramente darci dei feedback interessanti e da lì poi Twimbo è stato plasmato e abbiamo aperto al pubblico a luglio del 2011, quindi da qualche mese. Stiamo crescendo, abbiamo un sacco, una lista di cose da fare che è infinita, però poco a poco la stiamo mettendo, diciamo così, la stiamo facendo il check dei vari punti. Diventata poi ovviamente anche un'app per Chrome. Adesso è una web app, stiamo lavorando prima da fare tutta una serie di altre cose che servono sulla web app per renderla ancora più completa e stiamo lavorando sull'applicazione per iOS, quindi iPhone e iPad. Chiaramente sono la priorità numero uno, perché molti ci chiedono perché non fate prima Android, perché non fate prima, qualcuno dice perché non fate Symbian. Purtroppo avessimo 50 sviluppatori potremmo farlo, ma ce ne sono uno e mezzo, quindi di fatto dobbiamo dare delle priorità sicuramente a iOS, devi esserci, non puoi non essere su iPhone e su iPad per ragioni di mercato e ragioni di visibilità e di percezione anche. Quindi quello che ti volevo chiedere a questo punto è quali sono i numeri di Twinbow? Guarda, noi abbiamo raggiunto circa 15 mila utenti attivi nel giro di un mese, da quando avevamo aperto. Adesso abbiamo una crescita molto veloce, stiamo utilizzando tutta una serie di tattiche per fare in modo che Twinbow venga conosciuto, perché non è così facile, non è semplice, non è che sei su internet e tutti vanno da te a utilizzarlo. Ci stiamo posizionando come quelli diversi dagli altri. Qualche blog ci ha chiamato l'Apple dei social media dashboard, quindi un onore sicuramente, quindi siamo percepiti come diversi, ci stiamo posizionando come diversi e questo ci permette di… cioè noi vorremmo mantenere questa percezione nell'utente. Ci sono ancora due o tre cosette che devono esserci prima di poter dire che la web app è arrivata a un livello veramente alto. ci sono alcune cosette che devono esserci prima di focalizzarci a tempo pieno per un po' sull'applicazione immobili. Qual è quindi il vantaggio rispetto a un'applicazione come TweetDeck, per esempio? Allora, il lavoro grosso che stiamo facendo adesso è fare in modo che gli utenti ci percepiscano, non ci percepiscano, cioè come competitor di TweetDeck, Hootsuite e tutti gli altri. Perché? Perché vogliamo andare oltre. Non vogliamo essere solo una social media dashboard, ma vogliamo essere uno strumento innovativo di consumo di contenuti su vari social network, quindi dare degli strumenti agli utenti per consumare contenuti, per trovare e scoprire nuovi contenuti tra le persone che vengono condivise dalle persone che gli utenti seguono e farlo in una maniera nuova con, in particolare la user experience, quindi non solo consumo di tweet a tutti gli effetti, purtroppo ora, ora come ora, per ragioni di tempo, Twimbo è percepito come di fatto un Twitter client. In realtà nella nostra, chiamiamola Big Picture, non c'è, non è un Twitter client, ma è qualcosa di diverso e sempre di più questa differenza si andrà a percepire con le prossime release. Quindi già da ora, se tu mi dici la differenza con TweetDeck, noi ci stiamo focalizzando su tutta una serie di funzionalità che permettono, appunto come ho detto prima, di migliorare la maniera con cui gli utenti scoprono contenuti su Twitter e poi ci saranno anche altre social network a seguire. E ci sono poi tutta una serie di cose che noi facciamo fare in un modo che nessun altro sia inventato prima. TweetDeck aveva introdotto ad esempio il modello multicolonna, dove tu aggiungi tante colonne, questo modello in realtà noi riteniamo non sia per tutti, per qualcuno può andar bene, per qualcun altro no, quindi perché copiare, molti altri hanno copiato quell'approccio, noi no, noi ci siamo inventati invece il monitor, quindi un oggetto dove tu puoi aggiungere le tue keyword, i tuoi utenti da monitorare e quant'altro, ma senza che questo sia invasivo dal punto di vista della tua user experience. Mentre invece su TweetDeck aggiungi 5 o 6 colonne, vedi tutto che frulla e alla fine non ci capisci più niente. Esatto, esattamente, quindi a questo punto ti voglio chiedere se Twimbo diventerà mai a pagamento. Ma guarda, abbiamo tre modelli di business pronti già, diciamo, devono essere solo messi in campo. Sicuramente l'utente normale non pagherà mai, perché comunque è difficile che possiamo trovare un bacino utenti così ampio da avere noi del guadagno dal fatto che questi utenti pagano. Magari l'utente potrebbe essere anche disposto di pagarti un dollaro, ma sarebbero veramente pochi. Piuttosto, invece, aggiungeremmo, abbiamo in cantiere tutta una serie di funzionalità evolute per chi il social media lo utilizza professionalmente e lì stiamo valutando l'ipotesi di avere degli account a pagamento, soprattutto nell'ambito dell'applicazione mobile. D'altro canto, poi, c'è un modello che è più strettamente basato sull'advertising con dei modelli anche lì che abbiamo in cantiere abbastanza nuovi. Quindi, diciamo, non il solito, il classico link di pubblicità all'interno dell'app. Però, insomma, si scopriranno queste cose man mano. Ci sono prospettive di aggiornamenti, cambiamenti, nuove funzionalità per Twimbo in futuro? Ma guarda, noi Twimbo lo aggiorniamo in maniera molto rapida. Di solito abbiamo due release al mese, come minimo. Adesso l'ultima release è stata ai primi di ottobre e ci stiamo impiegando un po' di più perché stiamo facendo una modifica di core attualmente e quindi abbiamo necessità di più tempo. Quindi adesso la nuova release che verrà fuori correggerà un po' di bacchi, ma ci sarà proprio un motore nuovo che permetterà di fornire un'esperienza totalmente real-time agli utenti, cosa che adesso su Twimbo non c'è, ci sono dei leggeri ritardi nel delivery delle informazioni. Quindi questo ci ha parlato via un po' di tempo, anche perché poi Twitter non troppo velocemente ci ha abilitato a questa modalità, quindi abbiamo dovuto aspettare un po' di tempo. Quindi idee per il futuro di Twimbo come start-up, a parte le funzionalità interne dello strumento? Continuiamo a essere Twimbo adesso all'azienda americana, da maggio. Abbiamo un ufficio nel quartiere di Soma a San Francisco, è un co-working space, quindi un posto dove ci sono tante altre start-up, è sicuramente interessante da molti punti di vista, anche solo negli uffici ho conosciuto tantissime persone. Tu pensa che l'ultima volta che sono stato lì ho fatto una sessione proprio di feedback con un ex designer dell'Apple che mi ha dato tantissimi suggerimenti. Puoi conoscere anche persone così che sono disponibili a darti dei feedback, magari altre persone che hanno anche la loro start-up e vogliono i tuoi feedback, quindi un po' c'è uno scambio continuo di informazioni. Speriamo di riuscire, il mio obiettivo principale è far crescere la base di utenti in maniera sempre maggiore. L'obiettivo primario che abbiamo raggiunto adesso è da ottobre abbiamo duplicato tutti i parametri vitali di Twimbo, cioè siamo arrivati a un punto per cui tutti gli utenti nuovi registrati giornalieri sono doppi rispetto a quello di settembre, le page view, quindi abbiamo fatto un piccolo salto, adesso vorremmo farlo ulteriormente entro la fine dell'anno, in modo tale che ovviamente con le risorse che abbiamo è quello che possiamo fare. Teniamo conto che Twimbo non è mai venuto, c'è chi pensa che la massima aspirazione di una start-up sia uscire su TechCrunch e io non lo credo, ci sono tante altre strategie per portarti utenti e notorietà che sono un pochino più raffinate e su cui devi lavorarci parecchio per renderle possibili e stiamo lavorando a quello. Si parlava qualche giorno fa, era nata una discussione a proposito dei colori di Twimbo, una scelta che non a tutti piace, come è venuta questa idea di dividere le diverse tipologie di tweet per colore piuttosto che le diverse tipologie di utenti? Ti faccio una domanda, tu vivi in bianco e nero o a colori? Tu vivi a colori, tu individui le cose nello spazio che ti circonda grazie ai colori, questo in realtà il nostro cervello è qualcosa a cui è abituato, quindi il colore abbiamo fatto in modo che fosse un elemento molto importante per Twimbo in maniera tale che fosse un modo per aiutare il tuo cervello in maniera indiretta a essere più rapido nel reperire le informazioni, quindi probabilmente a qualcuno non sembra, ma se tu vai a vederti una lista di 200 tweet ad esempio nell'ambito di una singola schermata, tu immediatamente individui i colori, quelli con il colore, con il tag colorato li vedi subito e se tu hai utilizzato dei colori a te che devono darti delle informazioni ulteriori o dei tag, scusa non dei tag, delle label, perché ogni colore su Twimbo ci è associato a una label, tu immediatamente individui dei tweet rispetto ad altri, quindi vai a perdere meno tempo nella tua fase di analisi dei contenuti e questo è qualcosa che va nella direzione di fare in modo che Twimbo ti aiuti a filtrare le informazioni che ti interessano, rimuovere il rumore continuo che c'è sui social network, tanti messaggi di cui una piccola parte sono veramente di tuo interesse e i contenuti che vengono condivisi sono veramente di tuo interesse, quindi i colori per noi sono stati un elemento importante e continueranno a essere. Luca io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi oggi e per il tuo tempo. Grazie a te.